Che c'è nella mia camera? Sarebbe comodo buttare fuori uno così dopo vent'anni. E vedrà. E intanto paghili a retratto. Duemila e cinque. Ho detto duemila ieri e duemila oggi. Sette persone. Sette. Sette persone a carico, padra carità. Quella spera di muoio. Ma io non muoio. Al trenta le butto fuori la valigia. Riceverà lo stratto. Secondo lei ci sarà la guerra? Gianni, mi ero Umberto. Stanco. Lungo andrai, signor Umberto. Stai in giro. Sta fermo. No. 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 Quindi. Grazie a tutti.